Un giorno benvenuti a questa zuppa del 3 aprile, le notizie sui giornali oggi si intrecciano tra economia e grandi successi di questo Parlamento, più che di questo Governo. Sull'economia, TRIA spazzatura contro di me, è la vicenda che abbiamo raccontato nei giorni scorsi, una collaboratrice di TRIA è sotto attacco, doveva diventare anche consigliere d'amministrazione di IST Macroelectronics, in realtà è stata spostata dalla società quotata in borsa all'AISI, l'agenzia spaziale, una roba un po' meno importante, il motivo semplicemente è che il figlio di questa signora, anzi il marito di questa signora collaboratrice di TRIA avrebbe assunto il figliastro di TRIA, il fatto va alla carica, l'amica e i truffati, l'amica sarebbe questa signora Bugno e i truffati sarebbero quelli delle banche su cui TRIA non vuole votare, non vuole far partire dal decreto il Ministero di rimborso, hanno messo un miliardo e mezzo per il rimborso ai truffati dalle banche, sono tutti arrabbiati, però oggi mi sembra che in un approfondimento in Corriere della Sera ci spiega il motivo per il quale questi ancora non lo votano perché hanno paura di doverne il fatto che questi rimborsi avvengano senza alcuna sentenza, insomma ci sono delle gabole come al solito giuridiche italiane per le quali rischiano di pagare personalmente per danno erariale il Ministro e i tecnici che votino questa delibera perché l'Italia è fatta così e tra poco vedremo in che maniera. Altro passo indietro di TRIA deriverebbe da una indiscrizione secondo la quale Conte avrebbe detto a Juncker, quando Juncker ha detto guardate che si è in recessione, lo dice il vostro stesso Ministro dell'Economia, insomma Conte avrebbe detto a Juncker che questa fase TRIA l'ha detta soltanto a titolo personale e non a nome del governo, insomma Conte che pensi di sapere di economia più di TRIA? Andiamo bene, in termini economici di economia invece quello che mi sembra molto più interessante è che nel decreto crescita in cui vedremo quante robe ci saranno, secondo il Sole 24 ore di oggi all'apertura del Sole dovrebbe esserci la possibilità per quegli enti locali che hanno utilizzato degli enti di rispossione diversi da Equitalia, quindi mi sembra 6 mila comuni in Italia, moltissimi, la possibilità di riaprire il condono, la rottamazione delle cartelle anche per le multe comunali, mentre fino a ieri questo era impedito, oggi potrebbe arrivare la rottamazione delle multe e delle sanzioni comunali anche con il decreto crescita, insomma si tratta di una grande evidentemente apertura che dovrebbe portare Cassa allo Stato. Insomma poi di tutto il Parlamento, 460 voti affavorevoli e 0, contrarie al voto, unanimità sul revenge porno, da 1 a 6 anni il carcere per chi si permette di diffondere delle indignitose e orrende immagini come quelle che riguardano sempre il revenge porno, tutti d'accordo, ragazzi quando sono tutti d'accordo è chiaro, questa è una cartolina elettorale, non vi fate fottere, è la classica roba per cui soltanto oggi Mattia Feltri nel Feltrino c'è un passaggio favoloso in cui dice, insomma come al solito il governo, come è che ha detto, il solito spargimento di anni di galera, loro pensano di cavarsela così, pene esemplari, poi poco importa che l'altro giorno due stupratori presunti tali sono usciti dalla galera nonostante la ragazza che è stata stuprata ha detto di essere stuprata, ci sono gli omicidi che non vanno in galera, ci sono gli espulsi che non sono stati espulsi e che fanno in questo paese quello che vogliono, però ovviamente il Parlamento vota l'inaspiramento delle pene che nessuno mai riuscirà a dimostrare e ad applicare, posto che le pene già c'erano evidentemente per degli atti così orribili come quelli dello sfruttamento della posta privata, addirittura con il ricatto del revenge porno. Non bastavano le leggi attuali, abbiamo fatto la legge, sono tutti belli, adesso possono andare tutti in televisione e dire che sono orgoglioso di aver fatto questa legge. Nel frattempo bellissimo il fondo di Sallusti su quello sfigato di Di Maio, dice esattamente così, perché Di Maio disse che erano sfigati quelli che andavano al forum della famiglia, poi dice proprio tu che dicevi che erano sfigati quelli della famiglia, ti fai fotografare nella posa più telefonata del mondo su chi, mentre ti abbracci, boh non so dove, in un campo a Roma la tua nuova fidanzata, e calla dopo due mesi già vi volete fare un figlio, e dice straordinario Sallusti e vi sarete sussurrati nelle orecchie, come facciamo ad affittare un utero? Oppure perché non prendiamo, perché non troviamo una coppia gay? Cioè questo vi siete sussurrati o avete sussurrato quelle cose che dicono quegli sfigati della famiglia di Verona? Questa è la provocazione che fa Sallusti secondo me molto intelligentemente oggi sul giornale. Il fatto oggi poi tira fuori una roba molto interessante sulla Casa Legge Associati, perché la Casa Legge Associati prenderebbe dei finanziamenti, cosa ovviamente legittima e pubblica, da enti che sono abbastanza sotto l'occhio del ciclone, uno di questi è Delivero, quello che c'ha i rider con i quali stanno facendo la trattativa nel governo di Maio, i primi accenni, insomma è mai possibile che Delivero abbia sia finanziatore della Casa Legge Associati? È mai possibile che alcuni enti di formazione per il reddito di cittadinanza siano oggi finanziatori di Casa Legge Associati? Si chiede maliziosamente il fatto quotidiano, così come maliziosamente Nordio oggi sul messaggero dice ma voi non avete un partito, voi non vi perdoniamo il fatto che ci siano 8.000 auto blu comprate nuove dallo Stato, perché fino a ieri voi avete fatto della lotta allo spreco alle auto blu, avete fatto il vostro mantra, la vostra capacità di convincere la popolazione, oggi ha voglia a spiegare che queste auto blu servono, che magari non sono per voi politici, ma sono per le ASL e sono per la polizia, posto che non è vero che siano per la polizia perché Di Maio ha detto che non sono per la polizia, insomma vi si ritorce contro la vostra politica degli anni passati. Poi se andiamo a vedere quello che succede nel PD, mani nei capelli, oggi Landini ci spiega per l'ennesima volta, non è un inedito su Repubblica perché è necessaria la patrimoniale, la chiama contributo di equità per rilanciare gli investimenti, Pippe, si chiama la patrimoniale ed è quello che sto scrivendo in un libro che tra poco uscirà, cioè le tasse nascoste che ci vogliono far pagare e come ce le fanno pagare, ma la cosa più divertente di Landini non è tanto che chiede a questa patrimoniale per rilanciare gli investimenti per chi dice che si deve intervenire sulla ricchezza, non è questa la cosa più interessante. La cosa più interessante, come nota Folli oggi sulla Repubblica, la cosa più interessante di oggi è che ieri al Nazareno ha barcato la porta proprio Landini, quindi la nuova andazzo del PD è, dice sarcasticamente Folli, che al Nazareno non si vede il segretario Renzi con Berlusconi, ma al Nazareno si vede il segretario Zingaretti con Landini che è quello che vuole portare in Italia la patrimoniale. Se a voi piace va bene a tutti quanti. Noi intendo voi che votate a sinistra. Ben Pietro è l'unico che oggi si interroga su questa vicenda incredibile di Torino in cui un marocchino uccide un italiano sgozzandolo. Perché su questa vicenda su cui sono stati versati fiumi di tenerezze, di ricordi, di psicologismo, nessuno dice, Ben Pietro, si ricorda che questo marocchino che ha ucciso un italiano ha detto volevo ammazzare un italiano felice. Dunque non siamo razzisti noi a definire Marecchino che ha preso la cittadinanza italiana per matrimonio, ma siamo semmai noi vittime del razzismo al contrario del marocchino che uccide un italiano, un passante, solo perché italiano, nonostante lui sia diventato di cittadinanza italiana. Chi siamo razzisti? Noi o loro? Chi è l'omicidio e l'assassino? Noi o loro? Chi è che è pericoloso? Noi o loro? Loro inteso a questi matti che pensano per motivo razziale, cioè un italiano felice, italiano, uccidere un italiano felice, è quello che dice e sostiene Ben Pietro sulla verità oggi. Direi che per il momento è tutto, noi ci vediamo come sempre più tardi con tutte quante le informazioni che trovate sul sito nicolaporro.it. Ciao!